Ferdinando De Maria dopo un ottimo periodo di risultati e di prestazioni per la Semar 90 è arrivata una sconfitta a Viterbo, che cosa è mancato nella partita di ieri? Guarda, forse è mancata un pochettino di lucidità sia da parte dei ragazzi che da parte mia durante la gara, infatti non siamo riusciti a gestire quelli che potevano essere i vantaggi che ci aveva creato l'accoppiamento con Viterbo durante la partita, quindi non eravamo completamente pronti per giocare questa partita poi una squadra come Viterbo che è una squadra che difende aggressiva, con le mani addosso, deve essere pronto sia mentalmente che fisicamente per poter assorbire le botte Vedendo i parziali sembra che la partita si sia decisa nell'ultimo quarto, ma da quello che dici forse non sei completamente soddisfatto della tua squadra anche negli altri parziali? Ti dirò, secondo me l'ultimo quarto ci è costato sicuramente la sconfitta perché 12 a 4 di parziali, un parziale che non puoi assolutamente permetterti di fare una partita così importante, così sentita Gli altri parziali, ti dico la verità, i primi due quarti abbiamo fatto tanta fatica a giocare di squadra e questo poi l'abbiamo pagato Adesso ti aspetti una reazione dalla tua squadra, un ritorno a quelle che sono state le ultime tre partite perché adesso i playoff sono lì Sì guarda, io già ho resettato, mi auguro che anche i ragazzi lo abbiano fatto, infatti non ti nego che stamattina già ho visto la partita di Frassati quindi sto appunto iniziando a preparare la partita e spero che i ragazzi e anche loro abbiano resettato di modo da poter andarci a prendere due punti che ci sono mancati durante il giorno di andata vista l'assenza del medico, sicuramente sarà una partita tosta sicuramente sarà una partita che ci può riportare nei playoff e ad agguantare finalmente sì, sì cavolo di playoff però dobbiamo impegnarci e dare il nostro meglio per tutta la gara e tutto il resto della settimana in preparazione della partita